Eccoci e bentornati sul mio canale, dato che molti di voi me l'hanno richiesto, oggi ci andiamo a fare una partita tutti contro tutti, speriamo di fare bella figura, ovviamente siamo su una mappa che non ho ancora giocato, quindi veramente massimo divertimento e massime incognite, quindi speriamo di fare una bella partita, più che altro come sempre, come vi dico sempre, andare in positivo, non dico subito di vincere la partita, perché ovviamente si è da un bel po' che soffermo per il discorso che Black Ops 2 me lo sono tolto diversi mesi fa, e poi perché non sto giocando tantissimo nel multiplayer, perché l'avete visto anche voi, mi sto dedicando anche al single player, alla campagna che mi sta piacendo molto, e ovviamente arriverà un gioco, o meglio un video, ogni giorno sul single player, e ovviamente ogni tanto, quando praticamente non carico video, voglio fare qualche partita sul multi per provarlo, per migliorare e ovviamente per proporvi video sempre interessanti, allora partiamo subito sul tutti contro tutti, e stanno si può tutti a fondo mappa dall'altra parte, vediamo se riusciamo a prendere, eccolo, stava uno che mi ha sparato dietro, eccolo che è passato, eccolo, eccolo, e sei mio, presso, benissimo, andiamo su questo punto, vediamo se si rinasce, eccolo, eccolo, bello, nooo, come ha fatto a beccarmi, mannaggia, eravamo andati veramente molto bene, ne avevo già fatti due, chi cacchio, sempre a fondo, oh, quello, attenzione, c'era qualcuno qua, o ero io che ero morto, devo stare attento molto alle spalle, perché su questo gioco, rischio veramente di morire tante volte, eccolo, guardate, sempre alle spalle, e non l'ho visto quello, come cacchio è possibile, c'è qualcuno, ecco, l'avevo visto, muovere qualcosa, ricarica, ricarica, c'è qualcuno qua, che cacchio, eh, qualcuno mi stava sparando, attenzione, attenzione, dove cacchio è andato quello là, è salito sopra, nooo, fatemi vedere, no, questa la devo vedere, tchè, ma non l'ho visto, ma non c'è stava, ma come cacchio è, che tanti non li vedo, là quella cacchio di gomma mi porta sempre a sbagliare, allora, attenzione, oh, 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 c'è sempre, eccolo, eccolo, piano, piano, eccolo, guardalo, come camperà, uccidi un nemico da sdraiato, attenzione, 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 c'è sempre la paura che rinasce qualcuno, attenzione, eccolo, eccolo, guardatelo, fermo immobile, grandissimo, grandissimo, io non capisco che gusto c'è, comunque, stava qua sopra, eccolo, vieni qua, perfetto, oh, oh, mannaggia, ero partito veramente bene, stavo ripartendo in sé, oh, 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 attenzione, eh, che cacchio, ma com'è, ma me volete muovere, ma perché dovete stare fermi, in qualsiasi modalità ci deve essere sempre qualcuno fermo in alto, in basso, io non lo riesco a capire, a parte non la riesco proprio a concepire come cosa, allora, se stiamo in serie, è un discorso, nel senso che la posso appoggiare, perché uno sta in serie, dice cacchio, campero un attimo, perché, e vieni da me, ok, dicevo, praticamente, uno sta camperando, sta facendo la serie, che ne so, a sei, sette, otto uccisioni, deve sbloccare qualcosa, vuole prendere una bella serie di punti, ma invece col cavolo, oh, che cacchio è che mi sparava alle spalle, stavo quasi per morire, anzi, stavo proprio per morire, attenzione, qua c'è, la valigetta, via, uccido i nemici da qua, a qua arrivano dei colpi, ok, a sinistra, a destra, sinistra, però già è passato, già è passata, attenzione, ma perché non trovo nessuno, cavolo, ho visto un'ombra, bello di casa, no, mannaggia, pure in due abbiamo sparato, vai, andiamo di Satcom, bello, sta qua giù, sta, vediamo se mi ammazza, eccolo, attenzione, vieni qua, vieni qua, cacchio è che mi sparava, no, volevo far il numero con la pistola, anche perché non ci avrei mai avuto il tempo di ricaricare, bene, siamo quarti, ma neanche malissimo come prima, oh, vieni da me, nel senso miri e mi uccidi, o nel senso è meglio che non mi ti avvicini, se no ti faccio secco, attenzione, attento, oh, questo l'ho incontrato un mare di volte, proprio tante, via, 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 ripartiamo indietro, vorrei che rinascono e mi vengono a beccare, eh, niente, piana, attenzione, piana, attenzione, eccolo, oh, come cacchio ho ammirato, questo me lo so proprio mangiato, vabbè pure la mitraglietta che rincula che è un piacere, qua c'è qualcuno, via, da sopra, eccolo, lo sa, no, sia uno sopra che uno sotto, fantastico, fantastico, via, 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 stanno tutti qua dentro, stanno, andiamo a vedere se, eccolo, eccolo, però devi morire, devi morire, che stava pure piazzando il satcom, quindi ancora meglio, che cacchio, ma vuoi morire, mannaggia la miseria, via, 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 che qua ci beccano con un attimo, via, cerchiamo di andare il più veloce possibile, di girare in tondo, cacchio, ma perché ho già sparato là? Non so perché mi era venuto tipo come se c'era qualcuno, via, 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 oh, 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 mamma mia, guarda questo, ovviamente, ah no, no, questo sta ammazzando un altro, questo è andato bene, questo ci ha avuto un po' di fortuna, che ogni tanto male non fa, quindi, vediamo un attimo, attenzione, c'ho una pura che, che mi rispuntano sempre indietro, non so perché, c'ho una paura su sto gioco, eccolo, 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 bello, perfetto, andiamo, 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 se arriva qualcuno, attenzione, oh, mannaggia, questa rinata mi ha ucciso, uccide un nemico con l'arma secondaria, se, ma qua non ci riusciamo con la primaria, lo metto con la secondaria, uff, sta uno qua dietro, c'è qualcuno sempre a fondo mappa, no, no, cacchio, che botta di Q, che botta di Q proprio, c'è il cane là, vieni, uff, però devi morire, eh, e dai, arriva quest'altro, io so tre ore che sta a sparare a quello, so tre ore, vediamo se riesco a prenderlo alla distanza, qua mi sembrava che c'era qualcuno, ho visto male, aspettate un attimo, vediamo se non ci prega qualcun altro, eccolo, tu muori, stava qualcuno qua a sta finestra, non vorrei aver visto male, ricarica, arriva qualcuno, non so perché ma me lo sento, arriva qualcuno e mi fa secco, eccolo, questo mi stava proprio aspettando, guardatelo, fantastico, fermo sul container ad aspettarmi, quindi bellissima come cosa, avevo perso pure di un bel po', guardate quest'altro, ovviamente, fermo, immobile, quindi, oh, non c'è niente da fare, ma quanti ne sto incontrando questi giorni, che so, proprio un mare, perché poi con l'uno contro uno, perdo veramente rariamente, e poi ovviamente arriva qualcuno alle spalle, quello lo devo mettere sempre, eccolo, sta uno là, eccone in altro, ma questo è sempre sopra questi container sta, e scendi, mannaggia te, scendi, ma com'è possibile, come cacchio è possibile che non scendete da questi cacchio dei container, c'è stato a prendere la residenza, oh, 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 ma quanti cacchio dei satcom negativi, mamma mia, 16-20, oh, ma tutto, a parte tantissime di quelle uccisioni l'ho prese perché stavano proprio fermi, per poco, 2, 4, 5, siamo arrivati, i quinti, va, 5 su 8, però avete visto proprio quanti, mamma mia, proprio fermi, vabbè, dai, è andata bene, così ci siamo divertiti lo stesso, non c'è problema, ci vediamo con tanti nuovi video, sempre qui sul mio canale, con Call of Duty.